Questa esperienza è andata in modo direi inaspettato e comunque benissimo, è andata in modo fantastico, i giorni mi sono sembrati, i primi mi sono sembrati dei mesi e poi mi è sembrato di saltarne uno, quindi non ho avuto la percezione del tempo, è stata una cosa incredibile. Nel cuore mi porto parecchio, intanto un gruppo pazzesco, non è la prima volta che lavoro in gruppo, ma qui ho trovato veramente amici d'anima e poi tutte le cose che ho scoperto di me. Nel mio caso è stata per cercare davvero la mia missione di vita e veramente mi ha dato una chiarezza e una carica che tante altre cose che ho fatto non mi avevano mai dato. Prima mi sentivo un po' una scolara, andavo a fare un corso e pensavo di fare anche bene le cose o di dimostrare quanto ero brava e quanto ero forte a fare le cose. Adesso invece ho lasciato un sacco di pesi a terra e le cose le voglio fare con più leggerezza, in modo più spontaneo, in modo più vero, più autentico, come mi viene, come queste interviste in questo momento. Prima mi sembravano impossibili tante cose, adesso invece non mi sembra impossibile quasi niente, nemmeno tutte le limitazioni fisiche che io pensavo di avere. Sembra che qua sia diventata Wonder Woman e poi ho una direzione. Comincerò immediatamente a togliermi tutti i pesi che mi ero caricata, ma non lo so, non mi sembrano neanche più pesi, non mi sembra neanche così importante doverlo fare. Vivrò la mia vita tutti i giorni così, come mi piace, come mi soddisfa, come mi rende felice e serena. Per me è stata una grande leggerezza e direi direzione. Patti ti ringrazio tantissimo, il fatto di conoscerti di persona è stato molto entusiasmante, molto bello. Ti ringrazio tanto perché mi hai dato una chiarezza che mi accompagnerà da qua in poi. Grazie Patti.